sono le 12.50 del 28 gennaio 2023 guardate che meraviglia qui ci troviamo sopra le montagne comuni con le marzi è pieno di antichi terrazzamenti da magnifici questi terreni che quando c'era il lago del cucino qua c'erano olive limoni e qui avanti questo è un appassamento abbastanza grande peraltro qui c'è un esteso muro lungo a combini che sicuramente delimitava una unica proprietà perché quei comprimi li delimitavano tutti con i muri a secco il muro dalle prosegue davanti ecco qui vedete come si estende come stiamo a cercare un po guarda che bella questo c'è il corgnolo corgnolo olmo e beh questo proseguo adesso che faccio salvo qui sopra e proseguo il mio iter escursionistico però è un'altro bello sto bacchi leggini bravo